Buongiorno a tutti, grazie di essere qua. Praticamente due anni dai drammatici eventi che hanno sconvolto la nostra regione il 15 settembre del 2022 abbiamo organizzato questa conferenza stampa per ricordare innanzitutto tutto quello che è stato il lavoro che è stato messo in campo da parte della struttura commissariale, con le risorse che ci sono state consegnate con il governo Meloni e in parte anche per spiegare tutte quelle che sono le fasi tante e complesse che ci vedono protagonisti quotidianamente con la nostra struttura commissariale. Poi lo spiegherà nel dettaglio l'assessore Babbini, l'ingegnere Babbini, l'assessore Aguzzi, l'ingegnere Stefoni e sapranno riassumere sicuramente tutte quelle che sono le fasi molto complesse. Ci tengo a dire anche che comunque Babbini c'è avuto un passato assessore. Che rimane a vita. Rimane a vita. Non l'ha sbagliato. Praticamente è anche un'occasione per ricordare anche purtroppo le 13 vittime che hanno perso la vita in quella drammatica notte, in quel drammatico meriggio, in quella drammatica notte, stringerci ancora intorno alle loro comunità, alle loro famiglie e operare quotidianamente con la consapevolezza e anche la ragione che noi sappiamo benissimo che il rischio non potrà mai essere eliminato totalmente. Perché nessuno di noi può avere la presunzione di dire che quello che noi stiamo facendo abbatterà il rischio portandolo a rischio zero. Però siamo consapevoli che più noi riusciremo a lavorare nelle manutenzioni, nella messa in sicurezza, nella creazione di infrastrutture per la mitigazione, nella ricostruzione dei ponti e nella messa appunto in sicurezza di quelle aree che sono le aree più critiche di quel territorio. Ecco, noi sappiamo che con queste risorse, con il nostro lavoro, sicuramente il rischio può essere abbattuto. E l'abbattimento del rischio è anche fondamentale per dare più serenità agli imprenditori, più serenità alle famiglie e alle comunità che vivevano in uno stato di perenne e sostanziale e continuata agitazione e paura. Perché sapevano e erano consapevoli che bastava veramente poche, no poche, bastava diciamo una precipitazione anche se pure importante, ma una nostra ordinaria per mettere il MISA in condizioni di pericolo. Questo è possibile, grazie, io non posso non ricordarlo in maniera anche forte, perché se non c'erano questi 400 milioni noi queste risposte non avremmo potute dare. Quindi veramente la sensibilità del Governo nazionale è stata fondamentale nel comprendere la straordinarietà dell'evento, ma nel comprendere anche la particolare fragilità di quel territorio. Voglio aggiungere un ultimo aspetto, poi passeremo la parola all'ex Assessore Babini, attuale Vice Commissario alla ricostruzione posta all'UVIO. Praticamente l'aspetto che a me preme ricordare è che questo grande lavoro, adesso ho perso il filo, questo grande lavoro che noi abbiamo fatto è un grande lavoro che vede coinvolti tanti comuni che soffrono anche la carenza di personale, anche la struttura commissariale soffre una carenza rispetto a quelle che sarebbero esigenze straordinarie per dare risposte, però il lavoro fatto in due anni è un lavoro enorme. Se noi consideriamo a che punto sono i ristori, a che punto... L'altro giorno ho incontrato un alluvionato che mi raccontava che sono rientrati nella loro abitazione. Siamo... capisco che il tempo è tantissimo, ma ha meno di 24 mesi da quel pomeriggio. Quindi significa che nonostante le difficoltà, è stato messo in campo veramente uno straordinario lavoro. Io vorrei ringraziare tutti quelli che quotidianamente mettono il massimo impegno per dare queste risposte a queste comunità e per dare anche una speranza, un futuro a questi territori. Quindi veramente grazie. La parola all'ingegner Babini. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Allora, è doveroso, a distanza di due anni dall'evento, fare un riepilogo delle attività che abbiamo intrapreso. Molte delle cose che abbiamo fatto non si vedono perché c'è stato un lunghissimo lavoro di preparazione, perché il panorama amministrativo italiano continua ad essere complesso, nonostante le ordinanze, nonostante le deroghe che dovrebbero semplificare l'attività di chi cerca di mettere a posto un territorio dopo quello che è successo. e quindi noi abbiamo predisposto una serie di slide che poi penso che vi saranno consegnate. La prima cosa più importante è quella che lo stato di emergenza è stato prorogato di un anno, fino al 17 settembre 2025. Questo è un segnale importante perché le proroghe potevano essere dati soltanto una volta dalla protezione civile nazionale, qui è intervenuto il governo e quindi questo è un segnale di vicinanza a questi territori molto importante perché si è mosso il governo con un leggero stato per prorogare di un anno lo stato di emergenza in considerazione del fatto che abbiamo lanciato diverse attività e ci serve un altro po' di tempo per avviarle e partire. Il secondo quadro è quello delle risorse a disposizione, ci sono i noti 400 milioni del governo che ormai diamo per scontati molte volte, ma è una cosa del genere, è effettivamente la prima volta che si vede. Poi ci sono i 6 milioni e 100 mila euro che sono i primi stanziamenti della protezione civile, i 5 mila dell'ordinanza 922 più il milione 100 di ordinanze per l'estensione maceratese, poi ci sono 28 milioni investiti direttamente dalla regione Marche per le opere del genio civile. Nei primi momenti e poi ci sono i 20 milioni dell'Unione Europea, del fondo di solidarietà, questo è importante questo numero perché questi 20,9 milioni sono stati calcolati su quella che è la stima reale dei danni, noi adesso abbiamo 400 milioni però ci avviciniamo grosso modo al miliardo, questo l'abbiamo sempre detto, e quindi questa percentuale è stata calcolata su un fondo di circa 800-900 milioni e quindi vuol dire che anche in Europa si sono resi conto la gravità di questa situazione. E poi ci sono altri 8,8 milioni che erano in pratica della regione Marche e sono quelli del fondo Mase che sono investiti sulle vasche di laminazione di Pancaldo e Ponte Lucerta. Poi per quanto riguarda gli interventi, ci sono state le somme urgenze e gli interventi sul territorio, i ristori alle imprese e ai privati e il piano delle opere strutturali del commissario dell'ordinanza 1011. Per quanto riguarda le somme urgenze e gli interventi sul territorio, sono stati con i piani della protezione civile approvati 1.470 interventi di cui sono stati liquidati 53 milioni a fronte di un totale di 135,8 milioni. Sotto vedete il dettaglio 68 milioni e mezzo per le somme urgenze di lettera A e B che sono quegli interventi che fanno le amministrazioni nei primi momenti dell'emergenza, rimuovendo il fango, chiudendo le strade. Poi ci sono 63,4 milioni, sono le lettere D, cioè quegli interventi infrastrutturali che non sono di emergenza, cioè per esempio il ponte in campagna che è stato distrutto e deve essere costruito, però magari c'è una strada alternativa che facendo qualche chilometro in più permette di non far isolate. isolare persone e poi ci sono 3.760.000 euro di CAS erogato. Quindi vedete che la cifra a fronte di 135 milioni approvati, sono stati liquidati 53. Qual è il motivo di questo ritardo nella liquidazione? Che per leggi sulla contabilità dello Stato tutto quanto deve essere rendicontato e quindi in pratica non è che si possono erogare questi fondi preventivamente a pioggia, bisogna che i lavori vengano fatti, bisogna che i soggetti attuatori completino le loro opere, le rendicontano e quindi poi noi possiamo fare liquidazioni e quindi sostanzialmente da questo deriva la discrepanza. C'è da dire che la mia struttura, che ringrazio, è molto rapida nelle liquidazioni, quindi l'erogazione dei fondi non risente di alcun appesantimento burocratico, è sufficiente che i soldi ci vengano richiesti secondo le procedure di legge per poterli erogare in tempi bravissimi. Poi ci sono gli interventi che ha fatto il genio civile Marche Nord, che praticamente interventi di ripristino infrastrutturale e manutenzione straordinaria dei fiumi, non ci dimentichiamo che questi sono interventi importanti che furono fatti nelle primissime fasi dell'emergenza quando gli alberi erano completamente devastati e che hanno permesso di guadagnare il tempo evitando almeno un paio di eventi nel 2020 e nel 2023 quando ci furono degli eventi di piena non importantissimi ma comunque pericolosi, quindi questi interventi hanno aperto praticamente la strada agli interventi di somma urgenza più grandi, più pesanti che precedono in pratica gli interventi di messa in sicurezza definitiva. Ci sono anche i 13,7 milioni delle casse di Pancaldo e Ponte Lucerta, sono molto importanti perché queste sono prima della confluenza Misa e Nevola, tra le altre cose abbiamo chiuso poco fa una call con l'autorità di Bacino Distrettuale, l'Università Politecnica delle Marche e la Fondazione Cima, dove praticamente l'assetto di queste due vasche, cioè la presenza di queste due vasche è importantissima per quanto riguarda l'assetto generale del fiume, assieme alla cassa di Bettolelle che sarà la prima a entrare in funzione penso fra pochissimo tempo e quindi già queste consentono di dare un taglio significativo alle portate, quindi già Bettolelle è un primo segnale importante, seguiranno queste due e quindi già aumentiamo sempre questo livello di sicurezza che non potrà purtroppo arrivare mai al 100%, però faremo tutto quello che è possibile fare per tenerlo alto. Poi ci sono il piano delle infrastrutture minori, sono i vari ponti che abbiamo affidato al Consorzio di Bonifica come soggetto attuatore, sono sostanzialmente 12 ponti, ce ne sono tre che sono stati inaugurati, ce ne sono altri in costruzione e ce n'è qualcuno in progettazione che ha subito livissimi ritardi perché bisognava determinare il franco idraulico che si sta definendo sostanzialmente in maniera definitiva in questi giorni, perché è importante dire che tutte le opere che verranno ricostruite e che sono state ricostruite sono opere che rispettano in maniera anche ridondante, permettetemi, le normative, anche dove si seguono le normative alla perfezione per lasciare delle opere assolutamente regolari, inattaccabili e che resistano negli anni. Qui ci sono nelle slide gli interventi principali, Nevo, La Misa, Cesano, Burano, sono le aste fluviali dove sono stati effettuati gli interventi di allargamento, in alcuni casi allargamenti molto importanti perché non ci si è limitati a ricostruire gli argini dove siano roti, ma il fiume si è allargato, sono state recuperate tutte quante le aree demaniali, quindi si è creato indirettamente un sistema di gasta di dilaminazione in linea per cui contiamo di fare in modo che il fiume possa contenere maggiori portate, diminuendo la velocità delle acque. Qui vedete alcune immagini degli interventi fatti, nella prima in alto a sinistra c'è il fiume Misa all'ingresso di Senigallia con gli vecchi argini del 1930 e subito in basso vedete l'operazione di ragaggio del porto che fu fatta in emergenza anche questa perché se ricordate si passava dalla punta del molo all'altro camminando sulla ghiaia. Poi questi sono in pratica altri interventi, qui nell'immagine centrale si vedono ancora meglio le murate della base degli argini del 1925, poi c'è il capitolo dei ristori per le imprese e per i privati. Allora, l'articolo 4 dell'ordinanza 922 prevedeva le misure di immediato sostegno economico alla popolazione e ai privati e alle imprese, sostanzialmente i 5 mila e i 20 mila euro che venivano erogati sostanzialmente a fondo perduto previa dimostrazione delle spese sostenute in sostanza. Quindi sono stati erogati, se ricordo bene dopo 5 mesi dall'alluvione più o meno, 24 milioni di euro, 13 milioni e mezzo ai privati a tranche di 5 mila euro e 10,4 milioni in tranche di 20 mila per le imprese. Particolarmente importante questi 20 mila euro erogati alle imprese perché non tutte erano grandi imprese, quindi c'erano magari bar e ristorante che con questa cifra ha potuto ricomprare gli arredi, mettere a posto la cucina e ripartire. Quindi se anche si tratta di piccole cifre è stato un intervento significativo. Poi invece abbiamo la parte dei ristori cosiddetti pesanti alle imprese e ai privati che sono in pratica in questo momento sono stati erogati 4,6 milioni, 4 milioni e 600 mila e su un plafon di richieste di 30 milioni e 570 mila. Qui c'è da osservare che in pratica questa cifra è notevolmente inferiore a quella che noi avevamo preventivato perché all'inizio per fare una programmazione e allocare tutte quante le risorse in maniera corretta ci eravamo tenuti larghi, c'erano 155 milioni di euro di richieste, era ovvio che poi magari non tutte sarebbero andate a buon fine però noi abbiamo deciso di accantonarle in quel momento. Poi si sono ridotte sostanzialmente e alla fine la partita dei ristori fra i 5 mila e 20 mila euro e questi 30 milioni praticamente si viene a ridurre sensibilmente e quindi circa un quinto di quello che era prima inizialmente. C'è da dire che questi 4,6 milioni sono le anticipazioni che sono state date nella misura del 20% che è un'iniziativa che abbiamo preso noi perché in questo caso il meccanismo della rendicontazione non avrebbe funzionato perché il momento economico è quello che è purtroppo e quindi in sostanza la gente non aveva i soldi per cominciare a comprare, cominciare a lavorare, cominciare a rendicontare e quindi abbiamo immesso questi quasi 5 milioni come volano economico per far partire tutte queste attività. Poi magari qualcuno ha detto anche erogati solo il 20%, un altro non avrebbe erogato neanche questi sostanzialmente però speriamo che in qualche modo si possa ripartire con questa attività quanto prima. Poi la slide successiva, i 2 milioni e 200 mila euro di fondi regionali che il Presidente fece stanziare per gli autoveicoli danneggiati, operazione anche questa che non aveva mai visto precedenti e che non è neanche prevista da quelle che sono le ordinanze di protezione civile. Chi perde un veicolo l'ha perso e qui è stata tentata una forma di rimborso il più soddisfacente possibile nell'ambito di quello che erano le risorse. Poi veniamo adesso sul piano delle opere strutturali del Commissario, quello dell'ordinanza 2011 che prevede interventi strutturali per 130 milioni di euro al momento. Perché diciamo al momento 130 milioni? Perché ci sono da riallocare quelle somme che derivavano dai ristori che poi non verranno erogati in pratica. Questi sono circa un altro centinaio di milioni di euro mal contati e quindi una parte di questi interventi sono interventi nel piano di protezione civile che è un po' di tempo che dovrebbe arrivare approvato definitivamente ma contiamo adesso di averlo a breve e quindi su indicazione della protezione civile stessa questi interventi che non sono approvati non saranno approvati sul piano di protezione civile potranno transitare sul piano del Commissario e oltretutto un'altra parte sostanziosa di fondi transiterà sul piano del Commissario perché abbiamo visto che le opere rispetto alle prime stime che erano state date necessitano di ritocchi c'è un forte aumento dei costi dei lavori, materie prime e tutto il resto per cui contiamo di fare un lavoro ancora più completo su questo piano del Commissario in pratica. C'è da dire che su questi al momento 113 milioni erano fondi del Commissario e 17 milioni fondi del Genio Civile della Regione in ogni caso per finanziamenti Mase. Questa è la differenza fra le cose della protezione civile e le opere strutturali come abbiamo detto più volte che la protezione civile permette, autorizza interventi per il ripristino di infrastrutture opere danneggiate, però non finanzia gli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico cioè le nuove opere quindi non abbiamo detto più volte ma un ponte rotto viene finanziato dalla protezione civile un ponte che è necessario demolire perché l'acqua non ci passava e che non si è rotto non potrebbe essere finanziato quindi su questo piano ci sono tutte queste opere che sono opere di prevenzione con cui contiamo di abbattere il rischio e aumentare il livello di sicurezza delle aree e su questo piano ci sono tutta quanta una serie di interventi che potete vedere qui si va dalle vasche di laminazione al rifacimento delle arginature alla ricostruzione di circa una decina di ponti secondo questi nuovi criteri che abbiamo detto levando le pile in alveo ci sono le sistemazioni dei borghi che sono stati danneggiati in pratica dalle acque dove ci sono dei fabbricati che sono stati distrutti e la novità veramente poi vedete una slide dove ci sono la localizzazione dei principali interventi del piano della 1011 e vedete che in pratica sono le vasche di laminazione e la ricostruzione dei ponti dopo lo potete vedere con calma il piano è diviso in tabella A in tabella B tabella A perché ci sono le opere di rilevanza idraulica che devono avere l'intesa definitiva dell'autorità di bacino quella preliminare l'hanno già avuta e queste sono le opere in tabella B che non hanno rilevanza idraulica sono comunque importanti per la sicurezza e possono possono praticamente procedere allora quali sono le vere novità di questo secondo anniversario che stiamo passando dalla fase di programmazione alla fase esecutiva delle opere noi fra qualche giorno riceveremo circa 19 progetti preliminari di opere che stanno nel piano del commissario li valuteremo avvieremo le procedure per l'approvazione ma cosa più importante con i quadri economici di questi progetti con le categorie dei lavori avremo tutti quanti gli elementi stiamo lavorando da tempo con la SUAM delle Marche la stazione unica appaltante che sta predisponendo un accordo quadro che è importantissimo per l'affidamento dei lavori cosa vuol dire? vuol dire che anziché avere un progetto e fare una gara per scegliere l'impresa che realizzerà quell'opera noi mettiamo tutti quanti i progetti insieme possiamo finanziarli di volta in volta e la copertura economica c'è praticamente per tutti dopodiché si selezionano una volta sola tutte quante le imprese in un elenco che possono partecipare a questi lavori e poi possono essere chiamate direttamente in base quindi sostanzialmente facciamo una gara all'inizio una volta sola e quindi possiamo contrarre i tempi questo secondo le nostre previsioni c'è chi mi dice che sono ottimista che dovrei espormi un po' di meno però noi ci poniamo sempre questi traguardi perché una volta che non si pone un traguardo deve fare qualsiasi cosa per raggiungerlo e quindi noi conteremmo di poter approvare e affidare e aprire i cantieri diciamo tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 rimarranno un pochettino più indietro le vasche di laminazione tranne per quale motivo perché le vasche di laminazione sono un complesso di interventi interconnessi che sono difficili da realizzare adesso poco i minuti fa abbiamo terminato una call ve l'avevo preannunciato molto importante perché si sta delineando quello che è l'assetto definitivo del bacino del Misa e del Nevola si sta vedendo che le vasche funzionano la vasca di Bettolelle fra le altre cose dalle simulazioni dei modelli idraulici pare che funzioni molto bene e dia un contributo significativo alla sicurezza del territorio però ovviamente c'è da raccordare questo sistema ci siamo dati un ulteriore appuntamento per la fine di settembre quindi fra poco più di 15 giorni in modo da poter avere la consegna definitiva di questi lavori della fondazione Cima che saranno la base poi per tarare i progetti che già sono andati avanti di queste vasche però dobbiamo essere sicuri di realizzare un insieme di opere congruenti che funzionino in maniera concreta quindi queste sostanzialmente sono le novità e in pratica stiamo passando dalla fase di programmazione di allocazione delle risorse alla fase esecutiva per ridurre il rischio del rischio di questo territorio tutto qui grazie ingegnere grazie ringraziamo ingegnere Babini per carità funziona ecco adesso funziona no no ecco funziona allora io aggiungo altre informazioni che riguardano altre attività che abbiamo fatto nel frattempo oltre a quelle che insieme al vicecommissario in parte abbiamo contribuito a realizzare in particolare ai cambiamenti che abbiamo fatto per quello che riguarda l'informazione alle popolazioni i sistemi di allertamento e altre questioni che adesso vi racconto in particolare una delle cose che abbiamo fatto è modificare l'aspetto estetico e anche il contenuto dei bollettini meteorologici che oggi sono molto più chiari e contengono maggiore informazioni e sono di più facile consultazione questo è un primo passaggio che abbiamo fatto cambiando anche il software da utilizzare prima avevamo un software che era un po' fatto in casa e poteva creare problemi anche di continuità di funzionamento in caso di bug del sistema invece adesso abbiamo una società che ci da un'assistenza H24 in caso di malfunzionamenti poi abbiamo organizzato per la prima volta nella regione Marche dei corsi di formazione insieme alla scuola di formazione regionale dedicati agli amministratori locali e ai dipendenti dell'amministrazione locale che si occupano persone civili abbiamo fatto una prima edizione quest'inverno con amministratori tutta la regione e un'altra l'abbiamo fatta con i funzionari e adesso è previsto per il 9 ottobre mi sembra un altro appuntamento che d'accordo con la scuola di formazione regionale ormai calendarizzeremo tutti gli anni diciamo a settembre-ottobre perché probabilmente capita sempre che ci siano dei momenti elettorali a giugno e quindi magari le nuove amministrazioni o nuovi dipendenti dopo l'estate li convochiamo se vogliono partecipare a questi corsi di formazione sono solo due ore dove si dà una infarinatura di quello che è il sistema di protezione civile e più che altro delle indicazioni molto molto operative su cosa fare quando scatta l'emergenza il successo è stato notevole ci chiedono di fare nuove edizioni ma soprattutto con l'utilizzo della scuola di formazione regionale noi possiamo certificare la formazione avvenuta tramite la scuola di formazione e questo è diciamo un secondo me un buon passavanti sulla professionalizzazione di certe attività poi abbiamo per il bacino del misennevola modificato il sistema di comunicazione ai sindaci sui superamenti delle soglie di guardia dei chidrometri nel bacino misennevola ce ne sono tre e noi solo per uno quello su Bettolelli avevamo un protocollo che diceva al superamento a certa soglia di informare i comuni ora lo facciamo al superamento della soglia di qualunque di questi idrometri e l'ha fatto solo sul bacino misennevola per vedere quale fosse stato l'impatto poi perché c'è il rischio di mandare comunicazioni ridondanti oppure di mandare comunicazioni che a volte sono fake news perché magari dipendono da un guasto del sistema dovuto a un ramo dovuto a un salto di corrente o altre cose quindi l'abbiamo testato sembra non abbia creato disappunti e quindi un'informazione in più che arriva ai comuni che potrebbe essere tutto utile abbiamo poi aumentato il numero delle esercitazioni che facciamo sul territorio adesso noi faremo un'altra autore Corinaldo e Dintorni che prima facevamo un po' più con il volontariato oggi invece coinvolgiamo le amministrazioni comunali ma anche più di una alla volta in modo tale che li abituiamo a dialogare fra le varie amministrazioni comunali fra centri operativi comunali quindi tutta un'attività che si aggiunge a quella formazione che normalmente fa già la regione Marche nelle scuole nelle attività io non rischio sulle piazze e cose di altro genere quindi il sistema globalmente reagisce e anche diciamo molto favorevolmente accoglie questi maggiori impegni che gli diamo perché comunque sono maggiori impegni volevo aggiungere tutta questa cosa qui solo considerazione sugli altri vaccini noi parallelamente a quello che stiamo facendo sul MISA ci stiamo occupando a tamburo patente di tutti gli altri luoghi nella regione Marche dove in passato ci sono state emergenze gli ultimi dal 2006 in poi parlo di Osimo piuttosto che di Casette d'Ete Sant'Empia Mare nel 2011 dove ci sono stati morti Trudica il Bagnolo Castelfilardo l'aeroporto in tutte queste zone noi stiamo investendo somme significative superiori da quasi tutte le parti 20 milioni di euro alla fine di questi investimenti che faremo in tutte queste zone noi saremo in grado come regione Marche di scrivere alle amministrazioni che le zone perimetrate del PAI in questi bacini oggi potrebbero anche essere deperimetrate perché con i lavori fatti da noi garantiamo che venga che transiti rapportata con tempo di ritorno di 200 anni cioè con la probabilità che si verifichi ogni 200 anni senza che questa crei allagamenti quindi il concetto è quello di occuparsi di tutte le zone dove ci sono stati precedenti alluvioni e dichiarazioni di stato di emergenza certamente quello nelle altre zone faremo interventi risolutivi sul vicino del Misennevola questo è l'inizio di una serie di interventi che parte già dalla pianificazione del 2016 post alluvione del 2014 quindi ci stiamo occupando un po' Macchia Riobardo con lo stesso criterio che adottiamo sul Misa su tutto il territorio regionale vai all'alluvione chiudo il microfono vai all'alluvione non so se sono domando o meno perché poi non è che io debba aggiungere dopo le relazioni fatte dai tecnici l'ingegnere Bavini l'ingegnere Stefoni alle cose dette inizialmente dal Presidente sinceramente non è che io debba dire altre cose in modo particolare quel che posso dire è un pensiero in parte personale ma credo che sia persino di noi fermandoci oggi a distanza di due anni ripensando a quanto è avvenuto due anni fa e vedere i passi avanti che abbiamo fatto sinceramente io sono soddisfatto dire soddisfatto rispetto alla disgrazia uno non è mai soddisfatto ovviamente però sono un po' anche meravigliato di come siamo riusciti dopo i primi periodi dove tutti quanti ci eravamo trovati un po' persi di fronte a una tragedia di quel genere mai avvenuta storicamente e credo e spero che non si potrà mai neanche risuccedere di quella portata memori anche poi delle situazioni che erano state vissute sempre su quegli territori negli anni precedenti pochi anni prima che avevano stato strassi molto pesanti di insoddisfazione da parte anche di chi aveva subito quelle situazioni ugualmente gravi che a sentire insomma i territori ci si lamentava delle opere che comunque non erano state fatte degli indennizi che non erano arrivati delle ristrutturazioni che non erano avvenute ecco allora memori di quelle situazioni di fronte a una tragedia come quella sinceramente ognuno di noi aveva una preoccupazione molto forte io sicuramente il presidente ugualmente ma credo ognuno di noi bene dopo due anni vedere questi risultati di indennizi di attività di messa in sicurezza ma non messa in sicurezza semplicemente ristabilendo un argine là dove sarà rotto ma proprio un lavoro storico mai fatto mai realizzato da quando queste opere erano state diciamo pensate cioè noi lavorando lungo il fiume Misa abbiamo ritrovato argini alvei risalenti anteguerra nel senso che erano state fatte 70-80 anni fa in quel modo lì e poi non erano più state rivisitate ecco oggi possiamo dire che c'è stato un lavoro forte anche di concerto che non è anche questo molto semplice perché quando si mettono insieme vari soggetti varie attività genio civile protezione civile della regione ufficio commissariale consorzio di bonifica i comuni le loro attività il dipartimento nazionale di protezione civile la fondazione cima e le università gli uffici regionali qui c'è talarico che voglio anche ringraziarlo perché stai dando una mano grossa per quel che riguarda gli indennizi quindi altri uffici al di là del genio civile al di là del genio civile al di là della protezione civile quindi mettere insieme anche su attività così complesse tutte queste realtà concertarle e portare avanti delle attività che poi danno questi risultati perché oggi i risultati sono veramente risultati positivi è vero sono sotto gli occhi di tutti guardate io tanto è un po' che faccio politica faccio l'amministratore come tanti di noi tendenzialmente ti trovi davanti ai comitati che ti contestano sempre tutto tendenzialmente quando c'è un problema allora adesso non voglio enfatizzare questa cosa ma sinceramente è capitato più volte presidente incontrare i comitati degli alluvionati che a distanza di un anno un anno e mezzo non dico che sono felici perché non si può essere felici di fronte a queste cose ma sono contenti del lavoro fatto e te lo vengono a riconoscere e ti dico avete fatto le cose che noi credevamo necessarie beh questo non è che capita sempre capita molto raramente quindi si è fatto davvero un buon lavoro la cosa che ovviamente più ci tengo è che i lavori fatti non dico ci fanno dormire tranquilli perché su cose di questo genere non si riesce a dormire tranquilli e diciamoci la verità tra mille anni dovesse ricapitare tra mille anni quello che è successo il 15 settembre due anni fa io temo che anche tutte le opere che stanno mettendo in campo possono sì mitigare ma non so non so quanto farci stare tranquilli perché veramente quella è stata una cosa fuori da ogni fuori da ogni aspettativa fuori da ogni logica 460 mm in sei ore ma l'Emilia Romagna è andata sotto l'acqua tre province intere l'anno scorso in 48 ore sono piovute 220 mm in 48 ore 220 mm Cantiano s'ha sofferrato 460 mm in sei ore avete capito devo parlare cioè parliamo di più di mezzo metro di mezzo metro d'acqua in sei ore dopo quattro mesi che non pioveva dove l'acqua batteva sul terreno scendeva automaticamente a valle non penetrava per niente il terreno era duro come questo tavolo cioè una cosa incredibile quindi rispetto a questo la preoccupazione è chiaro che rimane sempre però io credo che rispetto a tra virgolette normali attività meteoriche quelle che in qualche modo hanno creato comunque problemi su quei territori anche in passato io mi sento di dire e spero tanto di non essere smentito che le opere portate avanti le opere fatte finora compresa la cassa di colmato di Bettolelle che andremo a visitare proprio domani perché è terminato non è collaudato ma se piove funziona capiamoci ha un meccanismo non di automaticità ma un meccanismo di naturalità nel senso che quando arriva la piena deborda da sola quindi non ha bisogno di un meccanismo collaudato quindi il collaudo deve essere fatto ma il collaudo lo farà la prossima piena sperando che sia la più limitata possibile però tutte queste opere quindi voi pensate già il fatto dell'ampliamento dell'alveo del fiume Misa e Nevola cioè se piovono 100 litri d'acqua e tu hai questa larghezza qui è chiaro che debordano ti arrivano a valle velocemente ma se tu hai una larghezza molto più ampia quei 100 litri d'acqua ti vengono contenuti in maniera naturale a valle ti arrivano molto più lentamente e non debordano ma questa è matematica quando è alla fine non è che è una scienza particolare cioè veramente gli alvei di quei fiumi sono stati ampliati di tanto fanno di fatto di per sé di cassa di colmata permanente nel senso che contengono molto più acqua di prima e quindi tra sistemi di allertamento che abbiamo diciamo adeguato ed adeguato a queste nuove attività che non erano prevedibili prima io credo che sia stato un gran lavoro guardate vi cito semplicemente un dato 28 milioni di euro messi dalla regione Marche credo che neanche nei vent'anni precedenti sono stati messi 28 milioni di euro a favore del fiume Misa neanche nei vent'anni precedenti no ma no ma questo non è per guardate credetemi non è per accusare qualcuno qui c'è poco da accusare qui sono situazioni talmente delicate che ognuno di noi può commettere ritardi o sottovalutazioni o cose di questo genere ma uno sforzo come questo fatto da tutti a cominciare dal governo nazionale per i 400 milioni chi l'avrebbe mai immaginato da un governo nazionale su una singola situazione 28 milioni della regione Marche cioè è tantissimo lo sforzo è stato veramente alto questo credo che ci venga tutto sommato riconosciuto non siamo qui per volerci dire bravi ma siamo qui per dire si è fatto quanto era necessario fare per mettere in sicurezza questi territori e programmare altre attività che stiamo finanziando e sono già finanziate stiamo progettando e anche appaltando per mettere definitivamente in sicurezza questo territorio credo che siano situazioni che mai hanno state poste con questa lente di ingrandimento con questa attenzione e devo dirlo lo dico anche con questa capacità perché dicevo prima tutte le cose messe in fila allora la cassa ne parlerò meglio domani prossime ore ma la cassa di Bettolelle era stata pensata e progettata nel 2016 e anche finanziata nel 2016 l'abbiamo appaltata noi nel 2022 e i lavori sono iniziati due mesi prima dell'alluvione ha portato via anche i mezzi della dieta che stava lavorando l'alluvione per dire bisogna anche essere capaci di mettere in campo le cose ecco ci stiamo riuscendo e questo è una soddisfazione nostra ma credo che sia una soddisfazione di tutto il territorio e di tutti i cittadini soprattutto grazie Stefano se ci sono domande non ci sono domande grazie e buona prosecuzione ho bisogno della cossola grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti